Arrivano notizie positive dall'ospedale Santo Buono di Napoli dove da ieri mattina è ricoverato il bambino di quattro anni di Montoro che ha ingerito soda caustica. L'aprogno si resta riservata ma le condizioni di salute del piccolo non sarebbero tanto gravi da metterlo in pericolo di vita. Si è trattato di un incidente domestico in seguito al quale il piccolo è arrivato al pronto soccorso di Solufra accompagnato dai familiari. I medici dell'Andolfi gli hanno prestato le prime cure di emergenza e dopo mezz'ora hanno disposto il trasferimento al Santo Buono di Napoli dove il bambino è stato trasferito in ambulanza con rianimatore e pediatra a bordo. Gli esami strutturali effettuati presso l'ospedale Partenopeo hanno evidenziato delle lesioni al cavo orale. Potrebbero esserci anche delle conseguenze all'apparato digerente ma per questo è necessario attendere le prossime ore quando il bambino sarà sottoposto ad un esame endoscopico. Solo successivamente si potrà avere un quadro più chiaro rispetto alle conseguenze riportate dal piccolo. L'intera comunità, a cominciare dal sindaco di Montoro, girò la moggia quinto e in ansia per il bambino. E' il primo cittadino in costante contatto con i medici del Santo Buono e i familiari del piccolo.